ecco qui tre atteggiamenti semplici femminili che possono aumentare le capacità di seduzione il primo è imparare con scioltezza e con naturalezza passarsi la mano tra i capelli in cui la donna tende a scoprirsi il collo questa zona del collo anche può essere fatto con due mani perché il collo è una zona comunque erogena e il fatto di scoprirla manda un segnale di analogico che l'uomo non decodifica a livello logico razionale di seduttività di attrazione il secondo è imparare a muovere il piede con la gamba cavallata e la gamba cavallata deve essere cavallata in modo tale da evidenziare maggiormente la gamba il che avviene se le due gambe non sono completamente una appoggiata sull'altra ma quella che sta sopra è anche leggermente rialzata rispetto all'altra e questi movimenti del piede danno un segnale analogico di rapporto di rapporto sessuale e quindi mandano uno stimolo di seduttività il terzo segnale è quello di sorridere cercando di ingrandire gli occhi perché io anche gli occhi grandi sono un segnale proprio attrattivo per il maschio bisogna imparare a fare tutto questo con naturalezza per migliorare le proprie capacità di seduzione per questo video tutto ti do appuntamento al prossimo ciao